Chiamato piano fisico. Cerchio K attraverso Marco a cura di VB. Domanda. Quando ti facciamo una domanda tu lasci passare alcuni secondi prima di rispondere. Che cosa avviene in quei secondi? Entità beata, la vostra atmosfera fisica è come se fosse uno specchio. Quando voi fate una domanda la forma pensiero ad essa relativa rimbalza nell'aria e arriva a toccare subito il corpo mentale del mezzo che per un fenomeno speculare trasmette questa immagine al mio corpo mentale che a sua volta trasmette questo a me cioè al mio corpo acasico, alla mia coscienza. Io poi faccio il processo inverso con la risposta. Questo per voi occupa del tempo. Per me invece, non esistendo più una storia nel senso vostro, non sussiste il tempo, essendo esso null'altro che uno stato di coscienza di chi si immedesima nell'aspetto più denso della dualità, chiamato piano fisico.